Albano e Romina Power mai così vicini, cara mia. Appaiono insieme, Albano e Romina. E veramente fanno sognare i loro milioni di ammiratori. L'immagine scatena le più belle fantasie. Albano e Romina, nonostante siano divisi da anni, restano comunque uniti nell'immaginario collettivo di milioni di fans. Italiani e non solo, visto che anche all'estero i due hanno tantissimi ammiratori. Il seguito dei due cantanti è molto folto in particolar modo in Russia, Australia, Stati Uniti e tanti altri luoghi sul globo. Ed ovunque Albano e Romina vadano, fanno il pienone. Prima che il mondo finisse preda della pandemia, quella che è stata una coppia per oltre 30 anni, tra fidanzamento e matrimonio, riusciva a fare il pienone nelle sue tourne all'estero. Una delle ultime aveva avuto luogo proprio in Australia e fu una festa pienissima, piena in particolar modo di nostri connazionali o di persone locali di origini italiane. I due continuano a farci sognare. Perché resta bene saldo e forte il sodalizio artistico tra Albano e Romina. La felicità è sempre un bicchiere di vino con un panino per tutti noi. C'è una pagina su Instagram dedicata al cantante di Cellino San Marco e dalla statunitense, figlia degli attori Tyron Power e Linda Christian. E qui è possibile prendere visione di quelli che sono tanti scatti appartenenti al passato di Albano e Romina. Ci sono tanti contenuti del presente ma anche dei tempi che furono, in cui entrambi erano più giovani, sposati e felici. Poi le cose sono cambiate. Nel senso che tutti e due hanno preso percorsi diversi, dopo il 1999. In quell'anno la coppia si separò, ma l'affetto è rimasto sul lato umano, senza contare la grande intesa su quello artistico. Ed anche se Albano sia ormai costruito una nuova famiglia con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto i due figli Jasmine Bido, molti ammiratori pensano che comunque lui avrebbe voluto continuare a condividere la propria vita con Romina.